Ciao, mi chiamo Amanda Tampieri e sono il portiere della Sampdoria Women. Ho chiesto spesso a mia mamma se per caso fossi finita in porta, se magari è stata una scelta volontaria, dici manca uno mi infilo in porta. Invece mi ha sempre raccontato che fin dal primo allenamento ho preso e mi sono infilata in porta, non so, magari ispirata anche dal fatto che mio fratello facesse il portiere. And I started to play in the field as a number 10, but I did not like to score all the time, it was not so joyful. And one day the goalkeeper was not, we had one goalkeeper in the team, it's not like that they change the goalkeeper all the time. And then one time the goalkeeper was not there and then the trainer, he asked me, he asked the group who wants to be in the goal? And I was like this tall, like this. And I said, he said, who wants to be in the goal? And I was like, me? And he said, ok, Sally, you're going in the goal today. And since then I never left, actually. Penso che il ruolo del portiere non sia da tutti. Penso ci siano determinate caratteristiche che ti portano a essere un portiere perché il fatto di sentirsi soli contro tutti, anche avendo una squadra supporto, ma comunque vedere 20 persone che ti arrivano addosso o dentro la tua area, sei comunque da solo. Sampdoria ho trovato un ambiente molto accogliente fin da subito, quasi familiare e probabilmente la nostra caratteristica è il fatto che siamo tutte nuove e questo ci dà una marcia in più per essere diciamo più gruppo, più attaccate, più famiglia. No, I'm really happy to be in Sampdoria. I think the team is really tight, so we're really, we have a lot of cohesion and it's really good in the team. Everybody gets along and I get along very well with the teammates. So like, I like to say this, that the goalkeepers are a team within a team. Con Selena mi trovo molto bene e non è facile visto il ruolo che interpretiamo. I'm really happy to be with Amanda in our little team of goalkeepers. I think she, I can learn a lot from her as well as she can from me, like it's always a little, a game between us. Tra di noi c'è un ottimo rapporto e penso che sia anche grazie a questo che possiamo crescere tranquillamente tutte e due. I think she's a really good goalkeeper and a really good person. She always helps me, she can translate for me because my Italian is still a little, a little bit. So yeah, I really like to be with her. My own goal is personally to play as steady as possible. So have little goals against, be very secure for the team, be very coaching in the team, you know, that I can, so in the back that I can really help them communicating really well. That I think that are goals for for media season. L'obiettivo personale sicuramente sarà crescere a livello umano e personale, perché comunque un'esperienza fuori casa ti regala queste cose e a livello calcistico crescere come portiere e magari ricevere anche una chiamata in maggiore. di QTSS di QTSS Grazie a tutti.